bentornati in soffitta per il podcast dedicato alle protagoniste della commedia sexy l'italiana oggi vi racconterò una storia di luce e ombre di caduta e di rinascita la storia di paola senatore se gli sei perso la puntata del podcast la puoi recuperare dalla playlist dedicata ti lascio il link nella descrizione del video iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti il nome di paola senatore a tanti può dire poco anzi pochissimo eppure è stata una delle attrici che hanno fissato l'immaginario erotico del cinema nostrano a cavallo tra gli anni 70 e 80 una bellezza marcata forte dalle sue origini militerranee che le hanno fornito una folta chioma ramata abbinata a uno sguardo dei toni chiari smeraldini 9 lei è davvero fortunata se questa sera sono imbattibile allora accetterebbe qualsiasi tipo di scommessa caro tessa lei mi fa arrossire non sapevo che i banchieri fossero dei cali don giovanni ma non lasciatevi ingannare dal suo silenzio attuale paola compiglio fermo screma proposte rifiuta inviti da parte di nostalgici per celebrare la sua carriera impressa in quella cinematografia bis che da più di vent'anni sta via via tornando alla luce grazie ai vari cultori del genere l'ultima intervista una delle pochissime rilasciate in tempi recenti è uscita nel 2019 sul corriere della sera dove ha raccontato parte del suo percorso artistico intrecciandolo con gioie ferite di un privato lagunoso che in parte deve rimanere tale l'infanzia di paola come racconta lei stessa fu particolarmente carica di difficoltà specie nel periodo della prima giovinezza quando venne messa in un collegio di mona che per volere della madre bramosa di ritrovare quella libertà che per tanto tempo le fu negata nata il 9 novembre del 1949 paolo a frutto di un amore malvisto dalla facoltosa famiglia calabrese della madre la quale avrebbe dovuto sposare un nobile uomo più anziano di lei e ribellatasi alle etichette borghesi per un bel giovane di estrazione sociale inferiore rimasto incinta la donna di della luce paola a roma dove fu mandata presso alcuni parenti paola è la commedia di italiana stiamo parlando di un periodo in cui a dominare manifesti e cartelloni c'erano i volti di edwin fenec cuore guida barbara bushè nadia cassini paola veniva relegata per lo più in ruoli secondarie a partecipazioni speciali era maggiormente regata nell'interrenno delle comprimarie sarà tinto brass dopo la comparsata in salon kitty del 1975 a darle maggiore risalto nell'incompreso action del 1979 con un piccolo ruolo che diverrà però immagine simbolo della locandina del film e cioè paola del ruolo della fotomodella n ex moglie del protagonista yuk merenda in mezzo al cimitero vestita di nero con le mani giunte alla gamba sinistra alzata con l'autoreggente in tacco spillo che si appoggia sulla lapide di una tomba ma il vero fiore all'occhiello della sua filmografia rimane nenè del 1977 dove la vediamo nel ruolo della mamma del piccolo protagonista retito dai vizi di rionora fani altra stellina erotica di quegli anni che per un breve periodo godente di una buona notorietà dopo queste esperienze paola viene ricollocata nel recinto delle caratterizzazioni della commedia scollacciata l'infermiera di notte dove vai se vizietto non ce l'hai la settimana al mare pur ritrovando qualche tenue bagliore da protagonista lussoriosa immagini di un convento e da vittima sacrificare nel cannibal movie stracultissima la sequenza della sua uccisione in mangiati vivi o da rappresentante di un erotismo ingriggito e decadente in manombra e maradonna a metà degli anni ottanta mentre i suoi servizi fotografici cominciavano sempre più avvarcare la soglia dell'hard storici quelli della rivista le ore alcuni dei quali in coppia anche con karen schubert altra vittima del sistema di cui vi ho già parlato paola gira il suo primo e unico film art per vendetta dice da diverso tempo aveva cominciato a fare uso di stupefacenti e le voci nell'ambiente cominciarono a moltiplicarsi sul fatto che si fosse data le luci rosse per comprarsi la dose sorte analoga a quella della compianta di carati di cui trovate anche il video dedicato qui sul canale tutto precipita il 13 settembre del 1985 paula viene arrestata per possesso e spaccio di droga condannata a cinque mesi di reclusione del carcere di rebibbia e ha più di un anno di arresti domiciliari da questo momento la sua vita slitta nel cambiamento scopre la gioia della fede mentre si trova in cielo di isolamento come raccontato le stesse a correre della sera a un certo punto sentì una voce potente che diceva questo non tutto il male viene per nuocere da lì a poco senti tremare tutto poi un gran senso di pace un atto di conversione che la porta alla pratica attiva della preghiera a rimodellare la vita e una cantera che non appartenevano più pur non rinnegando niente nemmeno alcuni titoli a cui ha preso parte perché ha perdonato tutto tutti e anche me stessa come diceva scontata la pena le offrirono intriganti contratti lavorativi ben retribuiti ma lei li rifiutò tutti aveva deciso di abbandonare definitivamente la celluloide i riflettori e i set per intraprendere il suo nuovo inedito cammino spirituale quasi 36 anni trascorsi rilasciando pochissime interviste si contano sulle dita di una mano nessun tipo di ospitata festivaliera o televisiva in omaggio a qualche film di culto a cineasti nostrani riscoperti e su facebook tiene simpaticamente a bada gli stimatori che calcano troppo la mano sul suo passato una fenice risorta dalle ceneri vorrei che altri si confrontassero con quello che ho vissuto io dice paola perché il mio vissuto la mia conversione possono essere di tutti oggi paola vive ancora nei pressi di quella roma che le ha dato i natali occupandosi di volontariato assistenza verso persone con disabilità pochissime sono le foto attuali che la ritrangono giusto un paio scattate diversi anni fa sempre col sorriso e con quella che ho mambrata che le ha ritagliato un piccolo accogliente spazio nella platea del nostro spericolato cinema di genere la storia di paola senatore è quella di una donna che ha vissuto una vita intensa e travagliata nel mondo del cinema erotico italiano da una difficile infanzia a una carriera che la vista protagonista e comprimare in numerosi film paola attraversato alti e bassi sperimentando sia il successo che il declino e le sue interpretazioni in film come excio e nenè le hanno conferito un ruolo importante nel panorama cinematografico dell'epoca tuttavia dove aver toccato l'apice della carriera paolo ha subito una serie di sfortune personali che l'hanno portata a compiere scelte radicali il suo coinvolgimento con le droghe e l'arresto che ne ha seguito hanno segnato un punto di svolta della vita di paola in carcere ha trovato la fede e ha iniziato un percorso di trasformazione interiore dove è scontato la sua pena ha deciso di abbandonare completamente il mondo del cinema e di dedicarsi alle spiritualità e all'aiuto degli altri oggi paola vive una vita riservata evitando l'attenzione mediatica e concentrando le sue energie del volontariato e l'assistenza delle persone con disabilità ha perdonato il suo passato e si è dedicata alla ricerca della pace interiore la storia di paola senatore è un esempio di resilienza e di rinascita affrontato le sfide della vita con coraggio e trovato una nuova direzione per se stessa il suo percorso di conversione il suo impegno nel volontariato sono un invito per tutti a riflettere sulle proprie esperienze e a trovare il proprio cammino verso la felicità e la realizzazione personale ma quella di paolo senatore non è l'unica storia tragica legata al mondo dell'hard e della droga clicca sul video qui accanto per scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice a quest'altra indimenticabile attrice